Come vedete dal panel dietro di me ho voluto usare tre parole chiave come filo conduttore di questa assemblea di questa giornata. Coraggio, il coraggio di cambiare rotta verso modelli sostenibili di produzione e di vita. La prima parola chiave, fiducia come principio fondamentale di relazione tra pubblico e privato ma anche tra privati per un progetto comune. E la terza parola chiave è sogno per la costruzione di una visione strategica del futuro condivisa tra tutti nelle azioni e negli obiettivi. In queste tre parole credo sia racchiusa la descrizione del percorso che le imprese del nostro settore stanno facendo insieme a tutta la lunghissima filiera che lo caratterizza. Partiamo con la prima parte di saluti istituzionali e invito a salire sul palco Andrea Furegato, sindaco di Lodi. Facciamo frequentissimi, prego Andrea vieni, facciamo frequenti incontri appunto con il territorio. In uno degli ultimi che abbiamo fatto, ciao Andrea, buongiorno, prego, prego. Abbiamo analizzato insieme i dati dell'osservatorio congiunturale che produciamo trimestralmente. Ed era messa appunto in evidenza qualche difficoltà del territorio che sicuramente voi state cercando di affrontare. Quindi volevamo capire un po' quali erano le visioni e le strategie che state mettendo in campo. Buongiorno a tutti, intanto saluto te Regina, Presidente, grazie per l'invito e grazie a tutti voi. Un saluto a tutte le autorità presenti. Sicuramente il nostro territorio, come tanti territori, ha delle difficoltà, difficoltà che tutti noi in questo momento congiunturale particolare sentiamo ancora più acuite dall'aumento dei tassi di interesse che sta avendo un impatto notevole sul mercato, in particolare sul mercato immobiliare. Ma credo che, come sempre, quando ci sono dei problemi, dobbiamo anche sempre cercare di trovare appunto con coraggio, con la fiducia e con la voglia di sognare, dobbiamo sempre cercare anche le opportunità che derivano da questi momenti anche di difficoltà. Allora, visto che questa Assemblea è un'Assemblea che si inserisce in un contesto di area metropolitana allargata, anche al di là del confine istituzionale, che quindi coinvolge anche i territori di Monza-Brianza e dell'Odigiano, insieme all'area metropolitana di Milano, rispetto a quello che sta avvenendo e alle dinamiche che stanno interessando Milano e l'area metropolitana, che rappresentano una delle realtà, probabilmente la realtà più innovativa, più creativa, più attrattiva del nostro Paese, allora credo che sia interessante ragionare, riflettere insieme, e l'occasione di oggi certamente c'è, e anche poi nel confronto costante con tutte le categorie economiche, su come territori periferici rispetto all'area metropolitana possono essere utili in funzione della città di Milano. Possono essere utili perché l'espansione, anche dal punto di vista urbanistico, sotto certi aspetti ormai è definita, o va definendosi in particolare anche per le questioni che venivano anche richiamate su modelli sostenibili di sviluppo che abbiamo di fronte a noi, ma realtà come quelle di provincia, e penso ovviamente soprattutto alla mia città, alla città di Lodi, offrono per esempio un costo al metro quadro per chi cerca residenza nell'area metropolitana e nei pressi dell'area metropolitana sensibilmente inferiore rispetto alla città di Milano. Allora questo sicuramente da un lato è un limite del nostro mercato, perché dobbiamo riconoscerlo, d'altro lato può essere l'opportunità di sviluppare nuove prospettive di mercato e anche una nuova offerta di residenzialità, nuove offerte immobiliare, per esempio nel contesto della città di Lodi e non solo. Qui dobbiamo però lavorare insieme, farlo portando avanti tutte le iniziative che sono già in corso, penso alle grandi opportunità del PNRR, 56 milioni sono attribuiti alla provincia di Lodi per interventi in edilizia scolastica, almeno 35 milioni sono invece, vedono come stazione appaltante direttamente il comune di Lodi, più tutti gli altri investimenti ad essi collegati, il confronto con gli altri livelli istituzionali, con la Regione, col Governo è costante per aprire e sfruttare nuove opportunità e sicuramente in questo senso dobbiamo lavorare meglio e di più sui collegamenti infrastrutturali, sul potenziamento dell'infrastruttura ferro, sul continuare con i lavori già fortunatamente iniziati della quarta corsia della 1, ma anche il potenziamento per esempio dei collegamenti che tengono insieme l'area metropolitana rispetto alla zona servita dalla Paulese, quindi dal Cremasco, la zona di Zelo che sta avendo una grande vitalità e un grande aumento demografico, lì ci sono una serie di investimenti da finalizzare e abbiamo anche un altro tema dell'infrastruttura su ferro, ricordo il collegamento sulla linea Mantova-Cremona-Lodi e quindi per arrivare a Rogoredo che è in corso un procedimento di raddoppio della linea che davvero consentirebbe di potenziare il collegamento in modo sostanziale. Quindi le opportunità non mancano, le opportunità non mancano per avere uno sviluppo più equilibrato anche all'interno della nostra Regione, però è uno sviluppo che credo che insieme come istituzioni, come attori economici, con i vari livelli istituzionali dobbiamo cercare di governare, di non lasciare andare semplicemente sulla sua strada, dobbiamo cercare insieme di capire come orientarlo per non avere un processo che sarà auspicabilmente sicuramente ancora di grande sviluppo per la nostra Regione, ma dobbiamo cercare il più possibile di pianificarlo insieme, senza pretendere di mettere, come si dice, le bracche al mondo, ma almeno cercando di dilearne i vettori di sviluppo e capire ogni territorio che funzione può svolgere a servizio dello sviluppo di quest'area e della nostra Regione. E questa occasione sicuramente sarà utile anche per questo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie mille Andrea, a presto. Adesso continuiamo e invito a salire sul palco il prefetto di Milano, Renato Saccone, che ringrazio veramente di essere qui con noi e la sua presenza testimonia la continua e proficua collaborazione che abbiamo sui temi della sicurezza e della legalità sul lavoro. Abbiamo fatto tanti protocolli con la prefettura di Milano, spesso c'è chi dice che i protocolli hanno poca utilità, io invece ritengo che se sono fatti come appunto con il prefetto di Milano, ma devo dire anche con quello di Monza e con quello di Lodi, con un accompagnamento costante diffuso per riuscire nella loro applicazione, poi permettono di ottenere grandi risultati. Lascio la parola a lei, prefetto. Grazie. Un caro saluto a tutti, al sottosegretario, al presidente, a voi tutti e un ringraziamento alla presidente. Torno molto volentieri ad ascoltare, anche se poi chiedo scusa ma c'è un impegno concomitante che mi costringe ad andare via tra un po'. Torno molto volentieri perché credo, almeno per come l'ho vissuto l'anno scorso e come è impostata questa, credo molto a questa impostazione, che è tutta rivolta al futuro. D'altra parte, diciamo, la vostra presidente investe e crede nel futuro. A mio parere questo è il modo migliore per interpretare il ruolo di corpi intermedi, cioè trasformare quelle che possono essere le legittime doianze, le rivendicazioni, in una visione più ampia che tenga conto dell'interesse particolare nell'ambito dell'interesse generale. Abbiamo perso molto sul fronte dei corpi intermedi nei decenni scorsi, a mio parere lì è un perno da recuperare del tessuto democratico. Sui protocolli io concordo pienamente, mi permetto di dire che è un po' come i codici etici, possono essere dei bollini blu che non servono a niente. A noi questo non interessa. Vi ricordo a tutti che a Simpredi Lance di Lombardia ha immediatamente colto lo spunto del protocollo nazionale Ministero dell'Interno Lance per rendere possibile a Milano e in Lombardia i controlli volontari, antimafia nel settore privato. Capite bene che su Milano che cosa vuol dire il settore privato? In questo momento, in quest'area, che sfuggirebbe completamente a quel tipo di controlli. Sono controlli, e qui mi soffermo solo su un tema fiducia e futuro, perché il tema della fiducia è quello nodale. I controlli non sono un limite alla fiducia, devono essere vissuti in un contesto di fiducia. Noi abbiamo e continuiamo a legiferare sulla sfiducia, non vale solo per le imprese, vale per tutti. Tutto questo rende poco efficace, rende poco lo stesso sistema di controlli, che non è più mirato, che non è più selezionato, che non è collaborativo ed eventualmente sanzionatorio. Ed è complicato perché c'è un tema di fondo, l'abbiamo visto quando abbiamo ripreso le attività col Covid, è tutto filiera. Allora dobbiamo intenderci, non è che ciascuno è responsabile del suo pezzetto limitato. C'è una strategia che è di filiera, una solidarietà che è di filiera, se si basa sulla sfiducia salta tutto. Questo vale per i rapporti tra pubblico e privato e tra privati e privati. ci aiuta la fiducia ad affrontare il tema dei giovani, il tema nodale delle giovani. L'abbiamo verificato a San Siro, a Quadrilatro, l'esperienza non è stata positiva. Allora io dico però proviamo a ribaltare, ma quali aspettative hanno questi ragazzi? E forse una domanda sana incrocia all'offerta sana, quando noi siamo trasparenti in modo semplice, far comprendere bene che cos'è lavorare in edilizia, in sanità, nella ristorazione, con il pieno rispetto dei diritti. E questo è il punto nodale. E d'altra parte bisogna provare e riprovare, entrando nelle aspettative. Mi sembra bella l'iniziativa con Don Gino Rigoldi. Noi proveremo a partire da un piccolo centro minori non accompagnati, legati alla formazione professionale. Credo ai passi che vengono dopo i passi. Sono tutti percorsi. Io perciò non posso che ringraziare a Sin Predile, la Presidenza, perché ci aiuta nel consolidare un sistema territoriale che è fondato su un'ampia sinergia istituzionale e poi su una consapevolezza. I problemi ci sono, i problemi ci sono, vanno affrontati. Vanno affrontati con la stessa fiducia che ha nel futuro la nostra regina dell'Eventis. Grazie mille, ci vediamo presto. Grazie mille al prefetto e adesso invito a salire sul palco il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Anche con Regione Lombardia e con il suo Presidente. Ciao Attilio, buongiorno. C'è sempre una strettissima collaborazione, soprattutto in questi ultimi mesi abbiamo lavorato tantissimo insieme su tre temi. Il tema del preziario regionale e del suo adeguamento, cercando di renderlo un adeguamento dinamico. Il tema della realizzazione appunto nei tempi imposti dei lavori del PNRR e dell'Olimpiadi e l'ultimo tema, di cui facevo cenno poc'anzi, dell'attesa adesso legge regionale per risolvere il problema relativo alla bonifica. Ti lascio la parola. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Vengo sempre con grande piacere alle vostre assemblee perché ho a che fare con uno dei comparti più attivi, più positivi, più capaci di trascinare la nostra economia di tutto il Paese. Quindi è bello respirare questa atmosfera. Ma lo diceva il prefetto, i problemi sicuramente ci sono, ma io sono assolutamente convinto che nella nostra regione le istituzioni lavorino per cercare di venire incontro e per cercare di risolvere le tante problematiche che purtroppo in me si nascono dall'oggi al domani assolutamente impreviste e imprevedibili. Per quanto riguarda il primo discorso, quello dei preziari, al quale la vostra Presidente, devo dirvi, è molto attenta perché mi ha ripetutamente. Allora, è inutile ricostruire tutta la storia che nasce dal decreto legislativo del 2016 e poi la costituzione del tavolo e poi l'incarico, e questo direi è l'aspetto più importante, l'incarico dato al Politecnico proprio perché si provveda a realizzare un nuovo preziario che tenga conto di tutte le situazioni anche che si sono modificate. Questa attività sta andando in maniera abbastanza spedita, i tempi sono quelli che sono, però agosto, mi sembra, il 3 di agosto o 4 di agosto è stato presentato proprio in ancia questa prima parte del lavoro, questa prima attività che è stata svolta e che dovrebbe racchiudere tutti quelli che sono i principi generali che saranno la base del nuovo preziario e devo anche aggiungere che entro la fine dell'anno verrà predisposto proprio un volume che inizierà ad esaminare il gran numero delle voci che verranno ricomprese in questo preziario. Voglio solo ricordare come noi abbiamo cercato anche di venire incontro a quelle che avrebbero potuto essere o che sono le esigenze più immediate, tant'è vero che a marzo avevamo cercato di fare una proposta che prevedesse la possibilità per il direttore dei lavori di inserire degli aumenti o delle riduzioni fino al 20%. Poi abbiamo valutato che questa situazione potesse creare più problemi che non vantaggi, per cui abbiamo pensato di soprassedere concordemente e attendiamo con ansia che si possa arrivare alla predisposizione del nuovo preziario. Secondo problema, la legge PNRR e lavori legati alle Olimpiadi. Ma io l'ho detto tante volte che le scelte che sono state fatte dai precedenti governi hanno un po' penalizzato il lavoro delle regioni, nel senso che le regioni sono state messe abbastanza da parte, si sono invece privilegiati gli enti locali, i ministeri e le grandi aziende di Stato. Quindi noi abbiamo una parte ridotta delle risorse, siamo intorno ai 2 miliardi erotti rispetto ai più di 20 che verranno destinate alla regione Lombardia. E la nostra quota si riferisce sostanzialmente alla sanità e stiamo realizzando le case di comunità sulla base di quelle che sono state le disposizioni anche che arrivavano da Roma e che sostengono poi in parte finanziate con i fondi del PNRR. Un'altra parte è l'housing sociale e qui introduco il discorso del fatto che accanto all'housing sociale previsto dal PNRR noi abbiamo approvato un piano casa che prevede circa 900 milioni di investimenti nei quali sono previsti vari tipi di interventi. Non ultimo, e qui mi permetto di aprire e chiudere una parentesi, il discorso sull'housing sociale che secondo me è fondamentale perché a questo punto noi dobbiamo cercare anche di dare una risposta a quelle categorie che non sono più nelle condizioni di rivolgersi al mercato privato ma che hanno bisogno di trovare delle abitazioni a prezzo contenuto. In questo senso, soprattutto poi nelle grandi città perché nelle piccole città il problema ma in Milano non possiamo permetterci di non dare una possibilità di residenza alle tante persone che devono vivere, che devono lavorare in città ma che non sono nelle condizioni di trovare un immobile. Su questo stiamo lavorando con grande impegno. Ed infine l'ultimo argomento, ma è residuale, è quello legato agli investimenti che stiamo facendo sull'idrogeno, alla Idrogen Valley che dovremmo realizzare in Val Camonica e un po' di queste alle stazioni per produrre materialmente l'idrogeno che dovrebbero arrivare e che realizzeremo nella zona di Brescia e che in parte sono finanziate proprio dal PNRR. Devo dire che per quanto ci riguarda i lavori stanno procedendo in assoluta tranquillità, stanno procedendo nel modo previsto dai tempi che ci sono stati dati e le cose stanno andando bene. Così come stanno andando abbastanza bene, direi sostanzialmente, le questioni legate alle Olimpiadi. Perché purtroppo noi siamo partiti con un ritardo iniziale. Dico sempre che noi ottenemmo l'assegnazione delle Olimpiadi nel mese di giugno del 2019 e la società, la SPA che deve realizzare la maggior parte degli interventi infrastrutturali è stata costituita dall'allora governo nel novembre del 2021. Quindi i primi due anni sono stati veramente... È vero che c'è stato il Covid, ci sono state tante giustificazioni, però due anni l'abbiamo buttati via. Ciò nonostante stiamo recuperando, posso dire che abbiamo risolto tutti i problemi legati alla città di Milano ed abbiamo addirittura recuperato una manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi in Trentino e che invece si realizzerà grazie alla disponibilità di Fiera di Milano, si svolgerà qui a Milano, che è il patinaggio di velocità. Abbiamo risolto altri problemi sempre in Fiera. Il Palazzo Santa Giulia, anche quello, i lavori stanno andando avanti, abbiamo l'assoluta garanzia che si concluderanno con un certo anticipo rispetto alla deadline. E infine, quindi ecco, l'unico problema che resta, che si dovrebbe risolvere in questi giorni, e quello legato alla pista di Bobba di Cortina. E lì dico, con tutti questi signori costruttori, datici una mano, date una mano soprattutto al Veneto per realizzare questa opera sicuramente fondamentale. Ultima domanda, quella legata alla decisione della Corte Costituzionale che ha impedito sostanzialmente, ecco, come diceva la signora Presidente, in effetti il Governo è stato celere, ma noi siamo stati celeri nella scorta dell'efficienza lombarda, come il Governo abbiamo già approvato la proposta di legge che è passata in giunta, la proposta di legge per applicare il nuovo decreto legge governativo che pone una risposta a quella mancanza che sostanzialmente ha consentito alla Corte Costituzionale di dichiarare illegittimo quel passaggio. La proposta di legge è stata passata in giunta e è stata già trasferita al Consiglio e diciamo per essere tranquilli entro la fine di ottobre verrà sicuramente approvata, io credo anche un po' prima. Quindi grazie, buon lavoro, buona continuazione, recupero anche questa che ha lasciato il Prefetto. Grazie mille, Silvio. A presto. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere arrivato anche il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, quindi che invita a salire per un saluto. Monza è un territorio fondamentale per noi, abbiamo una strettissima, buongiorno Paolo, una strettissima sinergia, un territorio di grande tradizione, ma che anche guarda al futuro e alla sostenibilità con grande attenzione. proprio di questi mesi è la revisione del piano di governo del territorio per appunto mettere in campo una rigenerazione, una riconversione di molte aree del vostro territorio. Certo, è un processo avviato su cui dovremmo ragionare bene e ragionare insieme. Inizio nel modo giusto dicendo un caro saluto alla Presidente, che di nuovo ringrazio anche per lo spessore dei suoi interventi. Dico di nuovo perché anche se l'anno scorso avevo avuto modo di dire che mi sembrava che fossimo stati di fronte a un intervento di spessore, come anche oggi, un intervento ampio di visione che consente anche di riflettere assieme sul presente e appunto sul futuro. Un saluto carissimo a tutti voi e anche ai molti volti delle persone che riconosco nelle diverse file, persone con cui si lavora assieme, ad esempio molti rappresentanti di associazioni di categoria, che ritengo rappresentino appunto quel riferimento continuo che le istituzioni devono poter sapere alimentare attraverso il lavoro di tutti i giorni. Prima ad esempio veniva detto che i protocolli a volte si firmano apparentemente per chi legge i giornali o per chi ascolta le notizie esclusivamente come atto formale. Noi sappiamo che così non è. In 15 mesi, ad esempio, sposto solo per un attimo l'asse, ho firmato due protocolli di intesa con la Guardia di Finanza che sono diventati operativi 20 giorni dopo e nel mio comune, una volta al mese, Guardia di Finanza e Comune, su due argomenti specifici, uno dei quali è l'attuazione del PNRR, lavorano insieme. Nessuno cliente dell'altro, ognuno con le proprie competenze, ma ha garanzia di un territorio che vuole crescere, crescere bene e crescere sano. Credo che questo sia una cosa importantissima. Ecco, da questo punto di vista dico che ringrazio per essere invitato insieme ad altri sindaci a un'assise così importante e così eterogenea, perché non ci siete voi solamente donne e uomini di ance qua. Siete molti a rappresentare il tessuto vivo della Lombardia e in buona parte anche dell'Italia. E' un grazie perché appunto queste collaborazioni nel tempo consentono di alimentare la parola più importante delle tre che avete messo in giallo, quella fiducia che è necessaria per poter gestire i territori. La fiducia del rapporto fra committente e fornitore. Molto spesso gli enti locali sono dei fornitori non irrilevanti, chiedo scusa, dei committenti non irrilevanti. Ma è chiaro che se il fornitore, il concessionario, chi vince l'appalto, è visto come una controparte con cui continuamente entrare in chiave polemica e in tensione sulla base di una sfiducia di fondo, si va molto poco lontano. Ma molto spesso gli enti locali non sono semplicemente, così vengo anche al tema del PGT, gli enti locali non sono semplicemente dei committenti, più o meno grandi, in base alla loro grandezza. Io vengo dalla terza città di Lombardia dal punto di vista demografico, dal punto di vista della storia di capoluogo, uno degli ultimi capoluoghi, dal punto di vista demografico, la terza città di Lombardia. Vengo da una provincia che ha 850.000 abitanti e 73.000 imprese e quindi è evidente che da questo punto di vista i pesi che possono avere le committenze pubbliche possono non essere irrilevanti. Ma non è solo questo il tema attraverso il quale dobbiamo alimentare la fiducia, è anche il tema della pianificazione o è anche il tema degli interventi che di volta in volta, anche dentro una pianificazione già ben organizzata, noi siamo in fase di avvio di variante di PGT e quindi dovremo collaborare assieme, ovviamente, dobbiamo confrontarci, ascoltarvi, ascoltare anche altre parti sociali, ma è il tema in cui appunto questa relazione, è il tema in cui questa capacità di condivisione guarda al futuro. Bene fa a Solombarda che ci impegna, parlo di a Solombarda, a Reabrianza che ci ha impegnato su un progetto al 2050. Bene fa, nel senso che o abbiamo il coraggio di guardare le cose al di là della breve durata di un mandato, di un amministratore, o altrimenti facciamo passi piccoli, politiche asfittiche, senza respiro. E io credo che da questo punto di vista abbiamo molte possibilità. Permettetemi di fare due sottolineature, poi smetto perché non è una relazione ma è solamente un saluto, due sottolineature rispetto a due argomenti, a due ambiti in cui i nostri rapporti si devono fare stretti. Uno è di carattere generale, va al di là della competenza di Ance o dei Comuni, ma raccoglie l'interesse di moltissimi qui presenti. Noi dobbiamo assieme vincere la battaglia culturale della concezione degli ITS. Dobbiamo far passare dentro il nostro popolo, popolo lombardo, le famiglie, i giovani, anche i meno giovani, l'idea che ITS non è un cammino secondario per la formazione della propria vita personale e dall'altra parte per le risposte alla domanda del mondo delle imprese. ITS deve diventare un mantra, dobbiamo essere capaci di dilatare il concetto, in maniera tale che nelle famiglie se ne parli come quando si dice università, o come quando si dice scuola superiore, uso il vecchio termine per capirsi. Questo è fondamentale e lo possiamo fare assieme e già lo stiamo facendo. Guardo l'amico Presidente Spada, lo considero amico perché ogni colloquio che facciamo è sempre un colloquio da qua in avanti e assieme, dove ad esempio già contribuiamo, già dove siamo presenti come soci o anche dove solo possiamo favorire la comunicazione, io credo che questo lo dobbiamo fare. Perché lo dico? Perché ho notato che avete fatto un passaggio importantissimo sul tema della formazione dei giovani e del bisogno anche di... È chiaro che c'è una specializzazione di base che può essere raccolta bene dalle scuole di formazione professionale, ma noi sappiamo bene che c'è una specializzazione non di base, senza essere universitaria, che ha bisogno di un livello di, come dire, attenzione intermedia, che in Germania fa sì che 200-300 mila persone all'anno possono presentarsi preparati a un mercato che già li ingloba immediatamente, mentre in Italia parliamo di 20 o 30 mila persone all'anno, su scala nazionale. L'altra battuta che faccio è... Ho condiviso le osservazioni e le battute sulla questione dell'abitare, e le questioni dell'abitare non sono importanti e o drammatiche solo per le metropoli. Lo sono anche per centri di media grandezza, Monza in scala complessiva su 8.000 comuni e la 33esima città d'Italia. Lo sono anche per città di media grandezza. E sui temi dell'abitare segnalo due questioni, due sforzi che stiamo facendo. Un rapporto con voi, imprenditori, con gli operatori, sul tema dell'edilizia convenzionata, che rappresenta per l'imprenditore tendenzialmente una possibile alleggerimento di alcuni costi, ma rappresenta per il mondo sociale, per la cittadinanza, una proposta non a costi bassissimi, ma a costi affrontabili da parte della middle class. E noi non dobbiamo insieme, come dire, contribuire a un'espulsione progressiva, non della middle low class, ma della middle upper class, perché ad andare via dalle nostre città non sono necessariamente le persone che stentano a chiudere il mese. Sono persone che hanno lavori stabili da impiegati, da tecnici specializzati o altro ancora. Quindi il tema dell'edilizia convenzionata, a mio parere, merita un continuo confronto con voi. E un altro tema importantissimo, e con questo chiudo, è quello della residenzialità tematica. Cito, prima il Presidente Fontana opportunamente citava l'housing sociale, io cito un altro tema importantissimo su cui vedo Milano, ma non meno Monza, con le vero dovute proporzioni, impegnate, è il tema degli studentati. Il tema degli studentati, che in alcuni casi è affidato a soggetti pubblici che operano, in alcuni casi il demanio stesso, è un tema importantissimo e anche in questo caso un'alleanza forte fra istituzioni e mondo dell'imprenditoria del vostro campo può dare dei risultati importanti in termini di risposta a giovani che crescono e che nel crescere rappresentano ricchezza umana, spirituale, interiore per tutti noi. Termino con una battuta, è chiaro che il gioco delle responsabilità, delle corresponsabilità è sempre alto. Non siamo mai perfetti. Io mi rendo conto che l'agire programmatorio di un comune, in alcuni casi può mettere più o meno in difficoltà l'operatore, così come mi rendo conto che le esigenze degli operatori a volte sembrano confliggere, ma è proprio la relazione quotidiana che probabilmente ci consente di risolvere le questioni. Grazie, grazie mille. Grazie mille sindaco, a presto.